Nel corso di un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Messina hanno fermato e sottoposto a controllo un'autovettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Insospettiti dall'atteggiamento visibilmente nervoso del conducente, gli operanti hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare, all'esito della quale hanno trovato circa 10 chili di cocaina suddivisi in 10 confezioni che l'uomo aveva riposto all'interno del bagagliaio dell'autovettura. I militari dell'arma hanno pertanto arrestato il 34enne e sequestrato la droga che è stata inviata al RIS Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti effettuati dai tecnici del RIS, risultato che dal quantitativo dello stupefacente sequestrato sarebbe stato possibile ricavare oltre 43.000 dosi di cocaina da immettere sulle piazze di spaccio. Ultimate le formalità di rito su disposizione delle autorità giudiziaria, l'arresto è stato ristretto presso la casa circondaliare di Messina Gazzi in attesa dell'udienza di convalida.